ecco eccoci pronte per un nuovo progetto insolito per il mio canale ma sono cose che chi mi conosce sa che le faccio da diverso tempo vi ho presentato tempo fa questi filati ho fatto uno short dove presentava appunto questo bracciale netted realizzata appunto con i filati presentati ho visto che vi è piaciuto e quindi in base ai commenti ai messaggi che mi sono arrivati ho pensato di potervi fare il tutorial è un progetto semplicissimo fatto a crochet è indispensabile avere gli strumenti giusti per cui il filato adatto è l'uncinetto adatto con la crona sottile e i cristalli di una certa dimensione poi voi potete scegliere anche di farlo con un altro tipo di filato e dei cristalli più grandi anche dei filati che io vi ho presentato questo che io ho realizzato è venuto proprio molto delicato molto sottile ma al tempo stesso grazie al filato utilizzato è molto resistente come vi ho già detto ve l'ho già presentato è il basic pure silver in color oro quindi gold è un filato che è fornito da filincanto studiato appositamente per questo tipo di lavoro a crochet e comunque di lavorazione con con cristalli per cui è molto resistente a un'anima all'interno un'anima di non so se si vede eccola qui perché mi sono resa conto riguardando il filmato della presentazione che alcuni pezzi sono venuti veramente molto sfocati e mi dispiace allora questo tipo di filato ha un'anima in poliester se non sbaglio e fuori ha un filo di metallo molto 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 sottile che è talmente ritorto che simula proprio un filo metallico se voi vedete quando io lo piego vedete resta con la forma che io gli sto dando e allo stesso modo quando si lavora con l'uncinetto è molto semplice da lavorare proprio perché è un monofilamento quindi vale a dire che si lavora con un cinetto molto piccolo ma non si divide lavorandolo questo è il primo vantaggio a mio a mio modo di vedere il secondo vantaggio è che nonostante si lavori con un uncinetto molto sottile scorre piacevolmente non non crea nessun tipo di difficoltà durante la lavorazione passano all'interno i cristalli anche quelli più piccoli sempre utilizzando l'uncinetto adatto e da una resa che a me piace molto che è questa prova ad avvicinarvelo un po ecco sembra proprio una catena aspetta ecco ecco adesso così si vede sembra proprio una catena e la bellezza che è fatta crescede davvero semplicissimo con questo tipo di lavorazione ed è non è neppure dispendioso adesso passiamo all'elenco dei materiali e poi vi faccio un piccolo campione per farvi vedere come si esegue ciò che ci occorre per realizzare il nostro bracciale sarà appunto il il nostro filato quindi il basic pur silver io lo sto utilizzando color oro ma ci sono altre versioni altri colori non altre versioni scusate quindi potete anche scegliere una un moschettone della dimensione che preferite io a portata di mano vi dico la verità avevo questo molto piccolo sarebbe il caso di prenderne uno un pochino più grande oppure anche una chiusurina calamita perché dovendo chiudere i bracciali da sole non è proprio semplicissimo un anellino per poter chiudere il nostro bracciale un anellino di metallo alcuni cristalli io ho voluto ho scelto dei cristalli molto piccoli da due se non sbaglio da tre adesso perdonatemi ma non ricordo la dimensione comunque sono molto piccolini e di colori diversi nulla toglie che poi potete personalizzarlo e farlo con dei cristalli più grandi piuttosto che con un unico colore ciò che è molto importante in questo tipo di lavorazione l'uncinetto io ora vi faccio vedere quello che ho e io a mia disposizione che questo io sono dovuto andare qui in merceria a comprarne uno perché quello che avevo preso da filincanto ne avevo più di uno purtroppo non riesco a trovarlo uscirà e mi troverò sempre con una con una miriade di uncinetti nel contenitore comunque la cosa importante che l'uncinetto sia da 0 60 con nella cruna vedete questo ha una cruna veramente piccolissima sottilissima questo ci consentirà di poter agganciare i cristalli nella lavorazione quindi andarle a inserire volta per volta quindi possiamo scegliere man mano che lavoriamo sia il tipo di cristallo da utilizzare sia il colore se vogliamo dare delle sfumature piuttosto che metterne uno di grande metterne alcuni di grandezze diverse quindi io trovo che lavorare con un uncinetto così piccolo non sia proprio non sia complicato ma è a il vantaggio appunto di personalizzare il lavoro durante appunto l'esecuzione e non solo nel caso in cui non ci dovessero bastare i cristalli che abbiamo previsto possiamo sempre andarli poi a integrare infilandoli direttamente durante la lavorazione nel caso in cui invece si volesse scegliere di lavorare infilando prima tutti i cristalli nel filato quindi con con un agro a cruna quelli fatti ad occhio per intenderci con un ago grande oppure con un ago nel quale entra questo tipo di filato ed entrano anche cristalli si possono infilare tutti sul filo e poi man mano durante la lavorazione andarli a prendere se vi interessa anche questo tipo di lavorazione quindi la variante magari me lo commentate qui sotto e si può fare un altro video anche con una semplice catenella per farvi vedere come possiamo andare a lavorare io ho scelto in questo caso di lavorare con i cristalli prendendoli durante la lavorazione quindi il quantitativo non ve lo so dire perché dipende molto dal tipo di cristalli che prendete e dalla lunghezza la larghezza che fate il vostro il vostro bracciale quindi considerate sempre almeno due file intere di cristalli di questi piccolini io adesso li ho mischiati non vi so dire quanti dovrei contarli al limite prova a contarli e ve lo scrivo sotto nei commenti dove vi faccio il riepilogo di tutti i materiali adesso io vi farò vedere un pezzettino della lavorazione perché è veramente così semplice che poi potete andare avanti per quanto volete misurando il bracciale sul polso lasciando considerando sempre un centimetro e mezzo due prima di arrivare proprio alla chiusura del polso ok per poi andare a chiudere ed andare agganciare i due elementi che ci permetteranno di chiuderlo quindi questi oppure una piccola un altro tipo di chiusura che comunque andrà montata sempre nel modo che poi vi faccio vedere un'altra cosa che io sto utilizzando solitamente utilizzo un tappetino apposito per appunto per lavorare con le perline sono dei tappetini tipo di spugna io in questo caso non ce l'avevo e quindi non è che non ce l'avevo non lo trovo e quindi ho preso un pezzettino di panno l'ench in modo che poggiando i cristalli qui guardate ecco poggiando cristalli qui non mi scivolano e riesco a lavorare agevolmente quindi facendo anche attenzione però con la punta dell'uncinetto a non impigliarmi nel tessuto altrimenti saltano via tutti i cristalli adesso passiamo all'esecuzione allora per iniziare dobbiamo lasciare una codina sufficiente che ci permetta poi di andare a fare una piccolissima rifinitura alla fine in modo da non avere aggiunte di filo alla fine quindi intendo questa serie di punti bassi che ho fatto qui è la piccola catenella che ci permette di attaccare sia il moschettone che l'anellina a seconda di quello che andremo ad attaccare alla fine del lavoro comunque adesso lo vediamo assieme la prima cosa da fare quindi lasciamoci una porzione abbondante di filo e facciamo un piccolo cappio a questo punto facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 allarghiamo la nostra solina andiamo a prendere un cristallo con l'uncinetto e ci agganciamo alla solina che abbiamo lasciato più lunga lo facciamo scivolare e andiamo a chiudere con una catenella che non andremo a contare nelle 5 catenelle quindi questa non si conta adesso ripetiamo 5 catenelle 2 3 4 e 5 allarghiamo nuovamente la solina peschiamo un altro cristallo e lo andiamo ad agganciare facendolo scivolare lo blocchiamo di nuovo 1 2 3 4 e 5 un altro cristallo lo agganciamo e lo andiamo a chiudere adesso facciamo 2 catenelle 1 e 2 allarghiamo la solina e mettiamo l'ultimo cristallo chiudiamo adesso facciamo 3 catenelle 4 catenelle scusate quindi 1 2 3 e 4 e ci andiamo ad agganciare al cristallo al secondo cristallo che ci troviamo sul lavoro quindi non questo che sarebbe l'ultimo della lavorazione sul secondo entriamo all'interno dove dove riusciamo e andiamo a chiudere con un punto basso ok ora facciamo 5 catenelle e ripetiamo la chiusura nel prossimo cristallo quindi entriamo all'interno qui dove si forma questo cappiolino prendiamo il filo abbiamo due occhielli sull'uncinetto e li andiamo a chiudere entrambe assieme di nuovo 5 catenelle 2 3 4 5 e ripetiamo qui nell'altro cristallo quindi entriamo in questo cappio che si è formato e lo andiamo a chiudere facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 5 e ci andiamo a chiudere all'inizio del lavoro quindi entriamo dove c'è possibile perché comunque i punti sono molto stretti per cui entriamo prendiamo con l'uncinetto il filo e andiamo a chiudere due cappi abbiamo così terminato il nostro primo giro ed è quello che è fondamentale per la riuscita di tutto il lavoro una volta che abbiamo terminato il giro dobbiamo fare molta attenzione alla lavorazione ovvero i cristalli devono stare sotto e noi dobbiamo avere questi archetti liberi sopra sui quali poi andremo a lavorare ora nel lavoro a crochet per voltare il lavoro solitamente si fa una catenella prima di voltare per alzarlo e per non far venire storture all'estremità quindi andiamo a fare una catenella voltiamo il lavoro e a questo punto facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 5 allarghiamo la solina prendiamo il cristallo e lo portiamo sulla nostra solina a questo punto il cristallo viene chiuso con una catenella che non si conta ok? quindi questo è solo un punto di chiusura per tenere il nostro cristallo fermo ora dobbiamo entrare all'interno dell'archetto che abbiamo formato in precedenza ci agganciamo con il filo e chiudiamo con un punto basso quindi prendiamo il filo e chiudiamo tutti e due i nostri cappiolini ripetiamo 5 catenelle 1 2 3 4 5 allarghiamo il cappio prendiamo un altro cristallo lo fermiamo sul nostro lavoro ed entriamo nuovamente nell'archetto quando facciamo questi primi giri facciamo attenzione sempre che il lavoro non si storce quindi cerchiamo sempre di tenerlo con l'indice e il pollice della mano sinistra piuttosto dritto entriamo nuovamente all'interno dell'archetto che ci troviamo subito sotto quindi entriamo ci agganciamo con il filo e facciamo un punto basso adesso ripetiamo 5 catenelle 1 2 3 4 5 ed entriamo all'interno dell'ultimo archetto senza mettere nessun cristallo quindi entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo e chiudiamo entrambe i cappi ora facciamo una catenella per girare allora nell'ultimo non ho messo il cristallo perché abbiamo quello del giro precedente quindi una catenella per alzarci voltiamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 alziamo ingrandiamo l'occhiello prendiamo il cristallo e lo portiamo sul lavoro lo andiamo a fermare con una catenella e ripetiamo così la lavorazione entriamo nel primo archetto che ci troviamo quindi questo 1 2 3 4 e 5 chiudiamo ed entriamo nel secondo archetto di nuovo 1 2 3 4 5 fermiamo e andiamo nell'ultimo che abbiamo e chiudiamo questo è il nostro lavoro ricominciamo sempre alzandoci con una catenella quindi facciamo una catenella al termine del lavoro voltiamo il lavoro e riprendiamo con 5 catenelle prendiamo il cristallo lo blocchiamo ed entriamo nell'archetto noi andremo a ripetere questo lavoro vediamo se si vede se lo metto in piano noi andremo a ripetere questo lavoro fino alla lunghezza che ci necessita adesso finisco il giro e andiamo a vedere come attaccare sia l'anellino che il moschettone ora per chiudere quindi per fare una piccolissima rifinitura che ci consenta di agganciare sia l'anellino che il moschettone che ce l'avevo qui dopo lo trovo dobbiamo andare a fare una serie di punti bassi all'interno degli archetti il principio della catenella prima di voltare il lavoro resta sempre quindi facciamo una catenella voltiamo il lavoro entriamo all'interno di questo archetto e facciamo cinque punti bassi quindi entriamo con l'uncinetto ci agganciamo con il filo e facciamo un punto basso uno due tre quattro e cinque entriamo nel secondo archetto e andiamo a fare altri cinque punti bassi uno due tre quattro e cinque a questo punto abbiamo l'ultimo archetto e facciamo sempre cinque punti bassi uno due tre quattro e cinque abbiamo così tre archetti con cinque punti bassi quindi noi nell'archetto centrale andremo a montare sia l'anellino su un'estremità che il moschettone sull'altra adesso ci alziamo sempre con una catenella facciamo punto su punto altri cinque punti bassi qui quindi entriamo sotto e facciamo uno due tre quattro e cinque siamo adesso nell'archetto centrale facciamo due punti bassi quindi punto su punto uno due tre catenelle uno due tre infiliamo il nostro archetto il scusate il nostro anellino lo fermiamo con una catenella e andremo a fare gli ultimi tre punti quindi uno due e tre e finiamo i punti bassi sempre punto su punto per dove riusciamo a vederli guardate perché poi una volta che si questo filo è molto malleabile quindi anche se saltiamo un punto non stiamo facendo del filet quindi non è non succede nulla cerchiamo anche noi di regolarci se magari qui ce ne servirà uno in più o in meno quindi non è un grosso problema se i punti non sono cinque sono sei piuttosto che quattro allora adesso terminato il lavoro si allarga la solina si taglia il filo si fa passare il filo tagliato all'interno della solina e si tira ed abbiamo terminato la prima estremità ipotizziamo che abbiamo tutta la nostra lunghezza qui ok quindi giriamo il lavoro con la codina che abbiamo precedentemente lasciato sul nostro lavoro all'inizio facciamo in questo modo entriamo all'interno dell'archetto ci agganciamo con il filo e facciamo una catenella adesso possiamo andare a ripetere i cinque punti bassi all'interno di ogni archetto come abbiamo fatto per l'estremità sulla quale è attaccato l'anellino quindi anche qui come abbiamo fatto prima ho fatto un giro di punti bassi al secondo giro mi sono fermata alla metà circa allargo la mia solina se avete un moschettone piccolino come il mio lavoratelo allo stesso modo dei cristalli quindi entrate dentro al buchino con l'uncinetto lo agganciate alla solina e lo andate a chiudere con una catenella quindi ora faccio le mie catenelle e mi vado a riagganciare continuando i punti bassi punto su punto quindi allo stesso modo di come ho agganciato l'anellino ho terminato taglio il filo rientro con il cappiolino tagliato all'interno della solina e lo tiro ora qui un consiglio prima di tagliare il filo io metto una puntina di colla dove sono i nodini non si snoda però sarebbe bene o riprendere con un ago e passarlo all'interno della lavorazione questo filo oppure assicurarsi che con un puntino di colla stia fermo questo è il nostro bracciale ovviamente io la lunghezza l'ho fatta da campione ma se vedete è uguale a questo le ripetizioni che si possono fare sotto quindi se lo vogliamo più largo le possiamo personalizzare quindi continuare con 5 catenelle e un cristallo fino alla larghezza proprio totale del bracciale che sarebbe questa alla larghezza che noi vogliamo ottenere quindi questo possiamo farlo anche più largo aggiungendo delle file, dei cristalli, delle catenelle all'inizio è molto importante l'inizio perché quando si inizia bene poi si prosegue e il lavoro scorre veloce se ci manca un archetto sotto oppure se sbagliamo qui sull'estremità il lavoro potrebbe avere delle storture insomma si potrebbe torcere quindi questo è il piccolo campione che abbiamo fatto per gli elementi che volete attaccare come chiusura che poi potete scegliere anche ad esempio una di quelle chiusurine a calamita molto piccole l'ho lavorata allo stesso modo di come lavorate i cristalli quindi entrate all'interno con l'uncinetto tirate e fate una catenella anche due per fermarlo potete passare anche più di una volta oppure se non vi fidate di una catenella con la codina finale quando avete terminato il lavoro con un ago arrivate da questa parte e passate più e più volte per assicurarvi la chiusura ma io siccome è molto leggero questa chiusura non deve tenere un peso eccessivo non è una chiusura che si rompe ma anche questo è dovuto alla qualità del filato e alla resistenza io spero di esservi stata utile se questo genere di video vi può piacere quindi se vogliamo fare qualcos'altro assieme o vedere magari l'altra tecnica con l'infilatura e lavorare già con le perline sul filo mi commentate qui sotto e cerco di fare qualcosa facciamo qualcosa assieme nel box informazioni qui sotto io vi lascio i link sia del filato, dell'uncinetto, dei cristalli potete trovare tutto nel sito di Filincanto se volete lavorare con questo tipo di filati che io consiglio vivamente perché sono eccezionali ecco magari potremmo andare a fare più in là qualcosa con i filati ecco ad esempio tipo questo che mi piace tantissimo vedo che cosa possiamo fare con quest'altro filato sfumato con il Basic Casual questo è meraviglioso con i cristalli adatti verrà fuori un bel lavoretto detto questo io spero di esservi stata utile ringrazio tutti perché continuate a iscrivermi a seguirmi e vi saluto alla prossima ciao ciao